...è un apportamento per cui... ...ci vorrebbe una bella strage per l'altro che... Certo, lo vede e me lo mandi subito, per favore. Va bene. L'inaugurazione ha dovuto subire un lieve contrattempo. Ah, ecco, bravo, lo veda. Siediti là. Tu sai quante coppie tira il giornale, vero? 500.000. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore. Ma che alla fine si rivolge a noi, al giornale. Per sentire dalla sua voce... ...una parola pacata e definitiva. E questa voce, lo veda? Deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro elettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine... ...che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato. I suoi figli, invece di andare a scuola, fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti. Il governo non c'è, il paese nel caos. Apri il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. Nel campo della industrializzazione. E che cosa ci trova? La guerra tra i vari paesi, sulla strada pacifica e feconta del progresso umano. Il tuo pezzo lo veda. La strada come simbolo di una felice prospettiva. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si bucia vivo padre di cinque figli. Ora, io non sono Umberto Reco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... Compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia cinque orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che forse è dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... Cos'è? Un calabresi povetto? Sì. Ecco, di un immigrato, immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente disoccupato il padre di cinque figli, ma dà anche un'informazione in più. Certo. Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va a legge, se non gli va a tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolino in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro. Rimasto senza lavoro. Bravo. Facci dentro la reda, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai. Solo per guardarti 50.000, se poi ti devi sbagliare 100.000.